Argentario Camping Village Dal 1954 la miglior vacanza all'Argentario Direttamente sul mare, sotto un'antica pineta, si trova sulla lingua di terra che unisce il promontorio dell'Argentario alla terraferma, di fronte all'isola del Giglio, di Giannutri e di Monte Cristo. Il villaggio propone numerose soluzioni e servizi per soddisfare svariate esigenze, dai villini in muratura a quattro posti letto con tv satellitare, telefono e aria condizionata, ai bungalow in muratura climatizzati, a spaziose ed ombreggiate piazzole. Ogni tipo di sistemazione garantisce di vivere la propria vacanza in tranquillità e relax, con il piacere dello sport e del divertimento, assicurati dallo staff dell'animazione. Dal 1954 la miglior vacanza all'Argentario Il gabbiano Camping Village si affaccia direttamente sul mare, tra la baia di Talamone e il promontorio dell'Argentario, sotto una splendida pineta, come un piccolo riservato e silenzioso giardino fiorito immerso nel verde. La spiaggia sabbiosa e a dolce declivio, la natura circostante, il complesso di pagode che racchiudono il bar, il ristorante, il market, la nuovissima piscina e i villini in muratura, rendono il gabbiano Camping Village il luogo ideale dove trascorrere un tranquillo e salutare soggiorno in compagnia dei vostri bambini. L'oasi dove ritrovarsi ogni anno Il gabbiano Camping Village Nel cuore della Maremma Toscana, resa celebre da grandi spazi, acque limpide, scogliere pescose, In un'oasi di verde, l'Argentario Osa Village rappresenta la scelta ideale per chi desidera abbinare il classico soggiorno al mare a una vacanza a stretto contatto con la natura. Situato a breve distanza dal mare, su di una collina che si affaccia sulla baia di Porto Santo Stefano e dalla quale si può ammirare la sagoma dell'Isola del Giglio e il colle di Talamonaccio, l'Argentario Osa Village è il luogo giusto dove poter trascorrere le proprie ferie in pieno relax. Argentario Osa Village Una terrazza sull'Argentario Talamone Camping Village Completamente nascosto nel folto della macchia del Parco Naturale della Maremma, Talamone Camping Village è adagiato su una collina con vista sull'intera baia che va da Talamone al Monte Argentario. È un ambiente molto suggestivo e vario, particolarmente adatto a persone che prediligono gli sport e che vivono di vento e amano la natura. Qui si passa dall'equitazione alla vela, dagli sport subacquei al trekking. Talamone Camping Village Tutta la Maremma in un villaggio Allora, stiamo andando alla partita ad Albinia. Questa sera ci sarà poveriggio, diciamo. Ci sarà la partita con la Nazionale Carabinieri contro la calcia attori, la squadra di attori, giovani attori dell'Eficcio, Primo Reggiani, Matteo Branciamore, Marco Vivio e tanti altri. Poi dopo, grande festa per la Sagra del Pesce Povero. Albinia, di fronte si vede l'isola del Giglio e a destra l'isola d'Elba se c'è bel tempo. Poco tempo e arriviamo. Vi facciamo vedere Albinia e tutte le particolarità turistiche. È un posto veramente, veramente bello. E poi aspettiamo con ansia tutti gli attori che arrivano. Nel pomeriggio ci saranno tutti quanti pronti a questa sfida contro i carabinieri e che vinca il migliore, perché no? Adesso vorrei staccare con un pezzo musicale che abbiamo selezionato qui al nostro mixer. Un pezzo unico, tutto per voi. Secondo me, adeguata l'occasione. Ascoltate. Vabbè, è uguale ragazzi. Noi non ci perdiamo d'animo. Quindi, vando alle ciance, vai con la musica! Ho fatto tutta quella strada per arrivare fin qui e ti è toccato partire, bambina in una piccola valigia di cartone che hai cominciato a riempire due foglie di quella raduda che non c'era già più e seti finti di un astuccio di gemme e la valigia ha cominciato a pesare dovevi ancora partire e gli occhi hanno preso il colore del cielo la furia di guardarlo e con quegli occhi ciò che vedevi nessuno può sapere il sole, il sole, il pioggia, neve e tempesta sulla valigia e nella tua testa e gambe per andare e bocca per baciare hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui e ad ogni sosta c'era sempre qualcuno e quasi sempre tu hai provato a parlare ma non sentiva nessuno e ti sei data, ti sei presa qualche cosa chissà, chissà ma le parole che ti sono avanzate sono finite tutte nella valigia e lì ci sono restate e le tue gambe andavano sempre sono sempre più ad agio e le tue braccia reggevano a stento il peso della valigia e sole, pioggia, neve e tempesta sulla valigia e nella tua testa e gambe per andare e bocca per baciare sole, pioggia, neve e tempesta sui tuoi capelli, su quello che hai visto braccia per tenere e fianchi per ballare hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui ma adesso forse ti puoi riposare si avvisse fatta nata quella che hai fatta a me chi stomma t'avessse accisa tu vuoi sapere perché sembra che siamo a Napoli in realtà siamo ad Albinia vicino Grosseto con il dottor Bruno ciao Bruno ciao 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 Bruno Nocera allora vogliamo parlare di questo fantastico villaggio La Pineta si questo è un albergo che fa parte della nostra società io sono il presidente di una società che diciamo comprende cinque strutture due sono campeggi villaggi uno è solo un villaggio completo e poi abbiamo due alberghi questo diciamo è il nostro fiore all'occhierlo ecco io poi volevo dire che ho notato che c'è tantissima manutenzione e da casa lo vedono dalle immagini del villaggio è tutto molto molto curato e c'è anche molta calma sì questo è un villaggio proprio per famiglie per chi ha bambini piccoli perché ci sono soltanto 32 stanze quindi piccino ma immerso in 4 ettari di terreno ha una spiaggia privata a cui si accede con una piccola passeggiatina di 50 metri insomma direttamente dal villaggio e quindi è proprio fatto per stare tranquilli in pace per godersi la natura immersi in questa bella campagna toscana ecco vi aspettiamo ad Albini e all'RTA Lapineta venite a trovarci ciao iscriviti a cura di canale 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 I see you on the streets some other time and all our words would just fall out of line while we're dreaming I'm here with Marco Caprini Marco come sta andando questa organizzazione? credo bene ma io non ho partecipato attivamente all'organizzazione parteciperò portando gli attori c'è Luca Vaselli che è lui il presidente della società è un po' scarica barile io gli chiedo come sta andando e scarica già il barile scarico barile perché non sono molto avvezzo alle telecamere è la prima volta che mi trovo davanti alla telecamera scarico a Luca la responsabilità dell'organizzazione passiamola subito su Luca Luca quanto è stato difficile mettere Marco davanti alle telecamere? è stata una bella impresa comunque colgo l'occasione visto che ho accanto sia Bruno che Marco che sono due diciamo tra gli imprenditori più importanti che sono in questa zona di Albinia e ringrazio in modo particolare Bruno il dottor Bruno Cera che ci ha permesso in questa splendida struttura di ospitare gli attori e Marco ha curato poi invece lui la logistica col trasporto dal Pineta al campo sportivo quindi un grazie sentito ad entrambi sì perché come ho letto sui giornali locali questa partita si è fatta grazie all'aiuto dell'imprenditoria locale che ha voluto regalare questa giornata di beneficenza però nel segno del divertimento e dello spettacolo giusto Bruno? giusto noi anzi dobbiamo essere noi a ringraziare Luca perché ha organizzato questo evento che è importante per la nostra zona insomma soprattutto perché ci facciamo conoscere ma poi soprattutto perché facciamo beneficenza in un territorio diciamo in cui si ha bisogno pure della nostra beneficenza per cui è un doppio valore insomma sicuramente perfetto Luca quali sono le associazioni a cui viene devoluto il denaro? sono la misericordia di Albinia che è un volontario della Croce Rossa in pratica l'Agape Ollus sempre di Albinia Nagara per il Burkina Faso che è un'associazione qui di Albinia che prende fondi e costruisce c'è un villaggio in Africa dove loro portano assistenza di qualsiasi tipo e poi un'associazione contro le lucemie giovanili Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Tranquilli non mi hanno arrestato ma sono i carabinieri che disputeranno la partita Allora Angelo come va? Tutto bene siamo qui per riuscire a passare una bella serata alle persone che vengono qui e a divertirci speriamo Ma qualche dato tecnico della squadra? Vi siete allenati? Poco Poco perché con i turni che abbiamo non è che abbiamo molto tempo per allenarci Comunque qualcosina abbiamo fatto però c'è un bellissimo spirito infatti ti faccio i complimenti Tu Gaetano la formazione come giocate? 4-4-3-2 dimmi un po' Si può anche dire giusto? Si facciamo un 4-4-2 iniziale probabilmente Poi vedremo a sorpresa Vediamo a sorpresa le sorprese che ci arriveranno Poi eventualmente cambiamo Quindi quanti sono i giocatori in totale? Perché poi ricordiamo essendo una partita di beneficenza possiamo fare quanti cambi vogliamo Quanti giocate? Esatto 22 20 Sareanno 20 20 20 Di quali caserme? Di dove? Allora è una rappresentativa provinciale una parte del comando provinciale di Grosseto e poi abbiamo preso una rappresentativa di tutte le compagnie della provincia quindi Massamanitti, Marcidosso, Orbetello, Pitigliano e poi c'è qualcuno che viene da qualche stazione limitrofa Allora siamo con Mauro Di Cicciolo uno dei carabinieri che giocherà con noi Ciao Mauro Ciao Francesco Che ruolo giochi? Alla destra Se non ti ricordi già da adesso scusami No no non attacchiamo andiamo diretti perché io sono molto bastardo in queste cose Con lui mi diverto perché ragazzi è agitatissimo sta proprio a 3000 allora sbrighiamoci facciamo così tutto a posto tutto così tutto a posto 2000 telefonate diciamo che l'iniziativa parte da lui Terzino destro Ecco vedi si è sciolto e si sta ricordando Allora parliamo di cose serie di cose belle l'associazione ci sono quattro associazioni a cui viene devoluto l'incasso e tu ce ne vuoi parlare di una? Sì in particolare oltre a quelli locali qui della zona Lagbat a Pisa dove io sono socio sostenitore Di che cosa si occupa questa associazione? Si occupa di curare bambini affetti da lucemia o tumore all'ospedale oncologico di Pisa, Santa Chiara Perfetto quindi io voglio ricordare che comunque è Mauro che ha dato il là per l'organizzazione di questo evento ha chiamato la squadra e ci ha messo tutto l'impegno possibile nei ritagli di tempo quando non lavorava Vedo che la tribuna è piena Mi fa molto piacere Mi ero preoccupato verso le tre il tempo brutto che può darsi pure che stava mettendo pioggia invece poi ha recuperato tutto Però io vedo che c'è quasi un pallido sole Grazie 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 Passiamo con Cristiana che è una delle volontarie dell'Agape l'altra associazione a cui viene devoluto l'incasso Cristiana ci vuoi parlare di questa associazione? Allora questa associazione nasce ad Albinia dieci anni fa abbiamo festeggiato il nostro decennio proprio adesso questo mese di maggio lo scorso maggio e lavoriamo sul commercio acqua e solidale abbiamo il progetto musica con i ragazzi abbiamo il progetto insieme che si occupa dei ragazzi disagiati e quindi ci occupiamo di Albinia? di Albinia Ecco avete un progetto cioè un obiettivo in particolare che volete raggiungere? Il nostro obiettivo comunque è essere solidali cioè nel senso abbiamo anche una bottega del mondo con il commercio acqua e solidale quindi abbiamo i progetti aperti con il Sud America e più cerchiamo di lavorare anche sul nostro territorio quindi abbiamo il progetto musica dove ci sono degli educatori e dei ragazzi dove sono nati dei gruppi che adesso stanno suonando nel nostro territorio e quindi è un diciamo fare insieme i ragazzi e lavorare con loro in modo da oltre che occuparci di altre cose insomma Questa è una cosa bellissima il volontariato complimenti quanti siete come volontari? Come volontari operativi diciamo siamo una ventina di persone poi ci sono tutti gli associati siamo circa un centinaio di persone associate quindi Perfetto io poi ho visto che comunque gli spazi sono pieni è andato tutto bene? Sì spero di sì che le persone rimangano contente soddisfatte di questa iniziativa tante che hanno dato 5 euro in beneficenza poi se sono contenti poi la prima volta la prima volta è e la prima volta 25 years and my life is still Trying to get up that great big hill of hope For a destination I realized quickly when I knew I should That the world was made up of this brotherhood of man For whatever that means And so I cry sometimes when I'm lying in bed Just to get it all out what's in my head And I, I am feeling a little peculiar And so I wake in the morning and I step outside And I take a deep breath and I get real high And I scream from the top of my lungs What's going on? In a sempre Yeah, yeah Siamo con Alfio dell'Associazione Nasara per il Burkina Loro raccolgono fondi per aiutare queste popolazioni Ciao Alfio Ciao, buonasera Vuoi parlarci dell'Associazione brevemente? Sì, l'Associazione è nata oramai, io sono 15 anni Che vado avanti e indietro in Burkina E abbiamo realizzato veramente tante cose Dai grandi ospedali della capitale, Ouagadougou E altri villaggi, diciamo, dispersi in piena campagna Però ho letto che comunque avete un progetto adesso Sì, i progetti ce ne sono, diciamo, svariati Attualmente l'impegno più grosso è in un villaggio che si chiama Tuguri Che è a circa 200 km dalla capitale Dove è stato realizzato un centro per bambini denutriti E veramente è una condizione Stanno lavorando in condizioni disumane Abbiamo già fatto qualche cosa E ora speriamo con il contributo appunto Che avremo da questa manifestazione Di poter ampliare l'impianto elettrico fotovoltaico Perché lì la corrente naturalmente non c'è Senti, voglio chiederti una cosa Perché chi è stato in Africa O comunque nei paesi veramente disagiati Questa cosa la può provare Perché purtroppo qua i nostri bambini, ragazzini Non sono più così ricettivi Quanto è bello dare una piccola Che soddisfazione provi Quando dai una piccola cosa a questi bambini Cosa provi? Ebbè, sono cose che secondo me vanno vissute lì sul posto Difatti alcune volte quando faccio queste interviste Qualche cosa Purtroppo mi vengono le lacrime agli occhi Perché ho visto delle cose veramente impensabili Perché io ho visto proprio gente che è cambiata Veramente dopo che è stata in Africa Ad aiutare questi popoli È proprio cambiata la sua sensibilità Quando tu ritorni, diciamo, in Occidente E vedi tutto questo progresso Gente che non è mai contenta E poi invece vai lì Si vedi che con pochissimo sono così contenti Eh sì, questa è una cosa fondamentale secondo me È proprio questo che hai detto È una cosa proprio perfetta Hai raccontato proprio la cosa nel migliore dei modi Io per esempio vado giù E devo dire Ma ora non è per fare Magari vado là, lavoro i 20 giorni E proprio sinceramente giorno e notte Eh sì, poi ritorni però Tranquillo, ti metti al lavoro Come se avessi fatto 20 giorni di vacanza In piano relax Estimamente sono andato giù per tre giorni Per riparare un motore Torni arricchito, diciamolo Torni con tutto un altro spirito Con tutta un'altra cosa Soprattutto quando per esempio Arrivo a Pasqua, a Natale Che devo dire a casa mia Insomma ci vuole uno al telefono Perché dai messaggi che arrivano I competenti, grazie E insomma E insomma sono piccole cose che veramente Perfetto Grazie Alfio E buona partita Grazie 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 Argentario Camping Village Dal 1954 la miglior vacanza all'Argentario Direttamente sul mare Sotto un'antica pineta Si trova sulla lingua di terra Che unisce il promontorio dell'Argentario Alla terraferma Di fronte all'isola del Giglio Di Giannutri e di Monte Cristo Il villaggio propone numerose soluzioni e servizi Per soddisfare svariate esigenze Dai villini in muratura a quattro posti letto con tv satellitare Telefono e aria condizionata Ai bungalow in muratura climatizzati A spaziose ed ombreggiate piazzole Ogni tipo di sistemazione garantisce di vivere la propria vacanza In tranquillità e relax Con il piacere dello sport e del divertimento Assicurati dallo staff dell'animazione Dal 1954 la miglior vacanza all'Argentario Il gabbiano camping village si affaccia direttamente sul mare Tra la baia di Talamone e il promontorio dell'Argentario Sotto una splendida pineta Come un piccolo riservato e silenzioso giardino fiorito Immerso nel verde La spiaggia sabbiosa e a dolce declivio La natura circostante Il complesso di pagode Che racchiudono il bar, il ristorante, il market La nuovissima piscina E i villini muratura Rendono il gabbiano camping village Il luogo ideale Dove trascorrere un tranquillo e salutare soggiorno In compagnia dei vostri bambini L'oasi dove ritrovarsi ogni anno Il gabbiano camping village Nel cuore della Maremma Toscana Resa celebre da grandi spazi Acque limpide Scogliere pescose In un'oasi di verde L'argentario osa village Rappresenta la scelta ideale Per chi desidera abbinare Il classico soggiorno al mare A una vacanza a stretto contatto con la natura Situato a breve distanza dal mare Su di una collina Che si affaccia sulla baia di Porto Santo Stefano E dalla quale si può ammirare La sagoma dell'isola del Giglio E il colle di Talamonaccio L'argentario osa village È il luogo giusto Dove poter trascorrere Le proprie ferie in pieno relax Argentario osa village Una terrazza sull'argentario Talamone Camping Village Completamente nascosto nel folto Della macchia del parco naturale della Maremma Talamone Camping Village È adagiato su una collina Con vista sull'intera baia Che va da Talamone al Monte Argentario È un ambiente molto suggestivo e vario Particolarmente adatto a persone Che prediligono gli sport E che vivono di vento E amano la natura Qui si passa dall'equitazione alla vela Dagli sport subacquei Al trekking Talamone Camping Village Talamone Camping Village Tutta la Maremma in un villaggio Tutta la Maremma in un villaggio Siamo con Roberto Siamo con Roberto dell'associazione Misericordia Questa associazione si occupa di beneficenza Diciamo ad ampio raggio? Sì, noi ci occupiamo delle persone in genere Dal trasporto sanitario Misericordia lo fanno dal secolo in Italia Qui ad Albina dal 91 L'associazione è nata E si occupa di tutte quelle che sono le tipiche Appunto situazioni legate alla persona Quindi si va dal sanitario Al sociale Alla disabilità in genere Quindi tutta una serie di queste iniziative Siete tanti come volontari in questa associazione? Siamo su 120 volontari iscritti E circa 4.000 soci Perfetto Quindi complimenti E buona partita Perfetto 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 I love you I love you I don't drink coffee, I take tea, my dear I like my toast on one side But you can hear it in my accent when I talk I'm an Englishman in New York You see me walking down Fifth Avenue Walking cane here at my side Take it everywhere I walk I'm an Englishman in New York I'm an alien I'm a legal alien I'm an Englishman in New York I'm an alien I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York If matters make us matter, someone say He's our hero of the day It takes a man to suffer ignorance and smile Be yourself, no matter what they say Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York Come è andata la partita Serino? Beh, è stata una bella partita, tirata, potevamo vincere noi come potevano vincere loro Sono stati più bravi loro a tre minuti dalla fine Hanno vinto loro Accettiamo il risultato del campo, comunque devo dire grazie ai ragazzi Hanno fatto una partita molto molto bella, tirata, si sono impegnati fino alla fine Quindi bravi Io ho una mia idea, poi ho parlato anche col fisioterapista della Calciatori e col medico Secondo me domani, siccome sono impegnati tantissimo, hanno corso veramente come dei forsennati Domani rimangono tutti inchiodati, chi li manda su un set, rimangono tutti bloccati Beh, abbiamo ancora un giorno per recuperare, no? Che domenica non si lavora, quindi speriamo che si facciano un bel bagno caldo E quindi lunedì siano belli pronti per ricominciare E pimpanti, comunque diciamo un palo per parte, chi è che ha sbagliato il rigore? Il rigore l'ha sbagliato Primo Reggiani che ha tirato sul palo sbagliato, diciamo, però insomma fa parte del gioco Eccolo, bisogna accettarlo Comunque anche colpa dell'allenatore, secondo me è un po', eh? Facile, sì, decisamente Grazie Allora, un rigore sbagliato Primo Eh, che vuoi fare? Non sono rigorista, non lo sono mai stato e non lo sarò mai Allora, io posso, però ti posso ribattezzare Zidane, perché ho visto che facevi dei bellissimi giochetti di gambe Sì, come no? Zidane Primo Zidane Sì, sì, quello di Porta Portese Comunque anche un po' di sfortuna, ma avete corso tantissimo Sì, e non siamo allenati, però ogni volta riusciamo col cuore a tirar fuori qualche energia in più 1-0, ragazzi, 6 minuti, a 6 minuti dalla fine, complimenti comunque Grazie, complimenti al nostro portiere che ha rivelato un gol fantasma Quindi complimenti Grazie, ciao Riprendi, che il marito non sa che è venuto a vedere la partita Complimenti, bella partita Sì, non ho giocato io Sì, sì, ci è piaciuta Avete fatto la foto? Sì, sì, i bambini con Matteo Calciatore numero 8, chi sarà? Il calciatore mi piace Beh, sei un calciatore, un calcio attore Ok Come è andata la partita? Una penosa figura in campo, non mi reggo in piedi Ormai gioco da fermo Beh, avete corso tantissimo comunque Sì, gli altri erano veramente forti, poi erano tanti cambi E poi eravate anche le zanzare contro Madonna, ma pieno Pieno di zanzare Sì, è stata una bella giornata Ci siamo divertiti Abbiamo perso, abbiamo vinto Avete perso a 3 minuti dalla fine Avete perso a 3 minuti dalla fine Avete preso un palo, un rigore sbagliato Il rigore della fine fa male Vabbè, succede Abbiamo sbagliato il rigore Però, bella partita, poi ho visto che eri un po' figurina sul 20 quando attaccavano Sì, ci provavo Però correva troppo per i miei gusti Perché loro si sono allenati tantissimo Abbiamo visto i video con il mister in settimana Tutti loro che avevano le opinioni tecniche Abbiamo visionato un po' di diapositive Poi stasera rivediamo su Sky Sì, rivediamo Sì, se il gol c'è o no Io non ho visto niente No, infatti, perché poi secondo noi Può essere che non c'è gol Però il computer ci dirà Comunque, bella partita, complimenti Grazie Grazie mille Chiedo ancora perdono per la penosa figura È stato bravissimo Ciao Ciao, grazie Eccoci qua Partita finita È finita 1-0 per i carabinieri Come avete ben visto Siamo qui con un'amica Con Gloria Francorsi Ciao Gloria Buonasera Ciao, ti è piaciuta la partita? Moltissimo Mi sono divertita tantissimo È stata una bella manifestazione C'era un bellissimo pubblico Sì, devo dire che il pubblico ha reagito molto bene Sono stati tutti molto calorosi Io ti posso definire donna marketing? Sì, volentieri Mi piace Quindi di che cosa ti occupi? Mi occupo della promozione di alcune strutture qui in questa zona, nella costa d'Argento, di villaggi turistici, alberghi e agriturismo Io ho visto che poi le strutture dove ti abbiamo visto sono molto curate Sì, sicuramente curiamo il prodotto, è importante La prima cosa per una promozione è avere un prodotto perfetto E a livello di servizi cosa offrite? A livello di servizi noi abbiamo una formula club che permette di usufruire di tutti i servizi nei vari nostri villaggi Quindi la spiaggia è attrezzata, abbiamo piscine, offriamo dei servizi sportivi, subacquea, quindi per qualsiasi target e livello di turismo Ci sono anche tanti stranieri qui? Ci sono stranieri sì, in bassa stagione, in alcune strutture molti di più, in altre sono tipiche strutture per famiglie italiane Quindi possiamo dire che sono strutture che hanno un target differente? Sì, ognuna ha la sua caratteristica Quindi diciamo ci sono le strutture per famiglie, quindi attrezzate per i bambini, avete animazione voi? Abbiamo animazione, inizia tra poco, abbiamo quindi servizi di mini club, spettacoli serali Alcune strutture come il Taramone Camping Village è adatto agli sportivi, a chi ama gli sport che vivono di vento Altre sono strutture come il Gabbiano tipiche per bambini, dove i bambini stanno benissimo perché possono stare da soli in libertà Argentario Camping Village invece è un villaggio che offre un po' tutto per tutti Quindi dagli adolescenti, ai bambini, alle famiglie E poi ci occupiamo anche di alcuni alberghi che quindi fanno un turismo più da weekend, da meno notti E lì abbiamo anche stranieri, persone di passaggio che possono, vengono a visitare il nostro territorio che è meraviglioso chiaramente Certo, questo l'abbiamo visto anche noi ovviamente sia delle immagini che io personalmente ho potuto constatare E devo dire che tu sei una ragazza giovanissima, nonostante questo sei una super donna marketing come ti ho definito prima E lavora tantissimo, adesso la vediamo così un po' impacciata perché c'è la telecamera Non ti trovi tanto attuato Non sono abituata per niente Allora ragazzi vi aspettiamo quindi qui ad Albinia in queste strutture ricettive, in questi bellissimi villaggi Cos'altro dire? Vi aspettiamo, l'estate è ormai iniziata Potete visitare il nostro sito internet dove troverete delle offerte lancio veramente appetitose E' gtav.com Trovate offerte Albinia, Talamone, Orbetello, Monte Argentario Perfetto, adesso andiamo a divertirci al Kings con gli attori dai nostri amici del Kings Dov'è il Kings, scusami? Kings a Porto Ercole, Monte Argentario Guidi tu? Guido io Lei non si ferma mai davanti ai dosi, va proprio... Non so come far resistere la sua macchina Quindi andiamo al Kings, ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Eccoci qua siamo al King a Cala Galera con lo storico gestore del locale del Kings Natalino, ciao Natalino Ciao, come va? Bene bene, a me va benissimo da quando sono arrivato qua Ho visto che avete due situazioni musicali differenti Beh noi abbiamo la parte della disco dove prevalentemente ci sono i giovani E poi la parte della musica, il priveto, musica dal vivo e c'è gente più grande Però scusami, siccome noi con gli attori siamo nella zona del piano bar non siamo mica vecchi? No, io intendo oltre 30 anni Perché come sai bene le discoteche sono frequentate da ragazzi molto giovani, 18, 20, 22 anni Quando superi i 30 anni preferiscono musica dal vivo E' una musica la nostra, quella molto movimentata, non è il classico piano bar e così Infatti stiamo sentendo i nostri ragazzi della scuola che si stanno scatenando letteralmente Hanno anche cantato un pezzo prima E poi dall'altro lato c'è la discoteca L'altra parte c'è la discoteca dove stanno arrivando tantissimi, tantissimi giovani Noi vedi, non lavoriamo in questo modo Noi abbiamo già una serie di programmi per l'estate L'estate, anche se è un'estate dove ci sono molte difficoltà economiche Non c'è dubbio da nascondere Lo so, però ci vuole sempre un buono spirito visto che siete pieni di iniziative Siamo dei combattivi, io sono oltre 40 anni che faccio questo lavoro Anche perché tu sei, ricordiamolo a chi ci segue Che tu sei il presidente dei gestori Per cui voglio dire Questa cosa va detto E' una riconoscenza Io faccio parte dell'asso intrattenimento E ho una riconoscenza da parte dei gestori Un veterano, sei un veterano E' un veterano Perfetto, allora io che voglio venirti a trovare il Kings Come devo fare? Mi dici l'indirizzo? Ma io devo venire, non salto Intanto è una strada diritta Tendevi a considerare una cosa Cala Galera Cala Galera Se ti illumini qui davanti sono tutte le barche Non è che sei in un posto Siamo vicini al porto C'hai Anzedonia là vicino Vicino a Anzedonia Io sono in Anzedonia Per cui è un posto meraviglioso Vieni qua E noi sai che trovi sempre una buona musica in discoteca E altrettanta bella musica anche cantata nel privé Un privé come il nostro Che è importante Ci passano tantissimi personaggi Perfetto Allora un grande saluto dal Kings Dato le immagini le avete già viste Il locale è molto bello Ciao da Francesco e da Natalino Ciao All night All day All night All day All nigh All day All night Argentario Camping Village Dal 1954 la miglior vacanza all'Argentario Direttamente sul mare, sotto un'antica pineta Si trova sulla lingua di terra che unisce il promontorio dell'Argentario alla terraferma Di fronte all'Isola del Giglio, di Giannutri e di Monte Cristo Il villaggio propone numerose soluzioni e servizi per soddisfare svariate esigenze Dai villini in muratura a quattro posti letto con tv satellitare, telefono e aria condizionata Ai bungalow in muratura climatizzati, a spaziose ed ombreggiate piazzole Ogni tipo di sistemazione garantisce di vivere la propria vacanza in tranquillità e relax Con il piacere dello sport e del divertimento, assicurati dallo staff dell'animazione Dal 1954 la miglior vacanza all'Argentario Il gabbiano Camping Village si affaccia direttamente sul mare Tra la baia di Talamone e il promontorio dell'Argentario Sotto una splendida pineta, come un piccolo, riservato e silenzioso giardino fiorito immerso nel verde La spiaggia sabbiosa e a dolce declivio, la natura circostante, il complesso di pagode che racchiudono il bar, il ristorante, il market La nuovissima piscina e i villini muratura rendono il gabbiano Camping Village il luogo ideale dove trascorrere un tranquillo e salutare soggiorno in compagnia dei vostri bambini L'oasi dove ritrovarsi ogni anno Il gabbiano Camping Village Benjamin, ci dici qualche particolarità di questo bellissimo villaggio? Sì, certo, diciamo il villaggio è adatto per i bambini, famiglie italiane con bambini piccoli Abbiamo il servizio del wifi, abbiamo la piscina e siamo direttamente sul mare, allora queste sono le nostre forze Perfetto, vuoi ricordare l'indirizzo a tutti quanti per raggiungerti? Siamo vicino ad Albigna, tra Talamone e Albigna, all'Argentario È un posto stupendo, per chi ama la natura, il mare, è tranquillo, ci sono tanti posti belli da visitare, è un posto unico secondo me Nel cuore della Maremma Toscana, resa celebre da grandi spazi, acque limpide, scogliere pescose In un'oasi di verde, l'Argentario Osa Village rappresenta la scelta ideale per chi desidera abbinare il classico soggiorno al mare a una vacanza a stretto contatto con la natura Situato a breve distanza dal mare, su di una collina che si affaccia sulla baia di Porto Santo Stefano e dalla quale si può ammirare la sagoma dell'isola del Giglio e il colle di Talamonaccio l'Argentario Osa Village è il luogo giusto dove poter trascorrere le proprie ferie in pieno relax Argentario Osa Village, una terrazza sull'Argentario Talamone Camping Village Completamente nascosto nel folto della macchia del Parco Naturale della Maremma, Talamone Camping Village è adagiato su una collina con vista sull'intera baia che va da Talamone al Monte Argentario È un ambiente molto suggestivo e vario, particolarmente adatto a persone che prediligono gli sport e che vivono di vento e amano la natura Qui si passa dall'equitazione alla vela, dagli sport subacquei al trekking Talamone Camping Village Tutta la Maremma in un villaggio. Perché la gente deve venire a Talamone Camping? Perché penso c'è l'offerta più varia di tutta la Maremma perché c'è il mare bellissimo, la natura confina col parco naturale della Maremma, si può fare tantissime attività tipo mountain bike, windsurf, kitesurf, uscita in barca, canoa, insomma c'è mille cose da fare. Perché secondo te? È un luogo dinamico con molti attività culturale, puoi andare a rinforzare il vino e andare a camminare in villaggi, sì, è bello, dovete venire. Ciao, siamo qui per parlare dell'Argento Festival. L'Argento Festival è una rassegna che prenderà il via il 23 giugno fino al 7 di settembre, saranno eventi di cinema, di teatro, di... Ecco, ma dove si svolgerà questo Argento Festival? Questo Argento Festival si svolgerà nei 5 comuni della costa d'Argento, cioè Monte Argentario, Orbetello, Capalbio, Magliano e Isola del Giglio. Vogliamo ricordare le date per favore? Iniziamo il 23 giugno fino alla prima settimana di settembre in una serie di feste che popoleranno un'estate. Perfetto, allora vi aspettiamo tutti quanti all'Argento Festival, mi raccomando non mancate. Grazie, vi aspettiamo. Grazie, vi aspettiamo. Grazie, vi aspettiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti